Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Vai Patrizio! Vai Patrizio! Vai Patrizio! Mira Patrizio! Bravado, mira Patrizio! Il bello, il bello! Il bello! Il bello! Si chiama Icino, non vi saluti! Manno lì! Via! alza le mani si tu hai metto il sinistro al corpo si alza le mani se li alza le mani non riesci dal colpa al corpo alimento il bordo non da lì due sopra e il terzo sopra due sopra e il terzo sopra e via! 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 tranquillo, alza le mani, alza le mani alza le mani, alza le mani su, su, fatti i buchi ehi no! no! a voi! vai Patrizio! bravo! ehi no! bravo! ehi! bravo! bravo! a te! ah! a te! Vai! Vai Patrizio! Viva Gourmeto! Grazie a tutti.